aiutatemi perché mi ha preso troppo vabbè c'è giorgia che non in un post ha strumentalizzato come sempre sua figlia quando ha vinto i suoi post su per giù di politica fanno dai 50 ai 90.000 like ha messo questo post qua di una letterina che le ha scritto sua figlia cara mammina sono tanto felice che hai vinto ti amo tanto ha preso 268.000 like ha scritto questa roba qua io sotto l'ho scritto tieni della stretta stretta sta letterina che fra qualche anno si vergognerà di essere nata a casa tua mi hanno ammazzato mi hanno ammazzato ma notato del rotto in culo ma del cafone di merda ma notato del gay solamente perché ho una foto dove sono nudo con un cane nudità maschile uguale gay per la gente che vota la meroli penso mi hanno fatto il comunista poi non sanno scrivere nessuno sa scrivere nessuno nessuno di loro sa scrivere nessuno ma non parlo la tastiera dopo la virgola ci vuole uno spazio ignorante con la i con la e spostata uno mi dice che devo morire una certa viviana mi ha scritto chissà se qualcuno ha mai scritto una letterina a te ora mi ci fa pensare no viviana e ci muoio da ora in poi fai schifo tu tutte le persone che ti hanno messo mi piace ma risa non funziona proprio così è pazzesco ciao rob ciao marco cosa ne pensi victor testimonial web di fratelli italia intanto rob mcquack lascia di dire una cosa prima di parlare di cosa ne pensi questa cosa qua perché non ne penso granché il solito babbo non voglio più che la tua immagine venga unita nella mia testa quella di victor mi chiedi sempre di lui vorrei che mi chiedessi di me qualche volta io ti risponderei a dovere e anche ti chiederei anche tu come stai quando dicono che devi morire non sanno proprio cosa dire ormai lo sento tutti i giorni è pazzesca sta cosa perché nonostante io comunque faccio sempre faccia sempre il provocatore sotto i post della meloni soprattutto quelli la più patetici quando si era scusata ho visto ieri il video dello stupro che lei aveva postato ma si capisce cioè si capisce tantissimo si vede si vede bene ma poi soprattutto la ragazza se qualcuno la conosce sicuramente la riconosce vabbè tante cose quindi marco sei il fan più attivo amiamo vederlo eh sì che video lui aveva postato un video di un extra comunitario che sta violentando una tizia ha postato il video raw terrificante ma ci pensate che nella stessa pagina dove mette sto video qua mette l'immagine della lettina di sua figlia loro che si abbracciano non lo so per me è un po' strano quindi provoco un po' la gente alle provocazioni ci casca tantissimo però a un livello eh mortale fatale si incazzano da morire saltano a conclusioni nessuno che vuole ragionare questo secondo me non parla tanto del mio commento quanto di come vivono le persone la loro vita in questa maniera qua cioè non è importante cosa dicono tutti gli altri non ragioniamoci l'importante è che qualcuno faccia il nostro bene peccato molto belli ci sono di dietro mi preferisco il tuo sorriso mi chiamo Jennifer è una bellissima cosa da dire a qualcuno e mi fai un po' rossiere grazie sono molto più facili da provocare i bambocci sinistroidi sotto wordly e apriti cervello per me prego un po' di imbarazzo fra mette io non voglio giudicare le persone dicendo che è facile farmi incazzare perché io sono anche facile da fare incazzare se a me portano la forchetta sporca in un ristorante dove pago un tot mi incazzo un po' perciò non voglio dire questo voglio dire solamente che è gente molto abituata a fare sta roba qua a incazzarsi e a non ragionare per niente io ho avuto poche poche occasioni per parlare con gente adulta in maniera seria e ahimè tutte queste volte lo sono state grazie a un mio fan che magari veniva accompagnato in una fiera dalla mamma o dal papà e si mettevano a parlare con me e devo dirvi molto interessante ma perché? perché non lo faccio mai? non mi capita mai occasione sono sicuro che se allentassi un po' la provocazione di questi post e iniziassi un po' a fare il parliamone non so sottolineare la stessa cosa però stiamo anche parlando di internet e non è il posto per fare sta roba perciò devo smettere Marco non riesco a trovare il tuo commento nel post della Meloni come mai? perché ce ne sono un miliardo sotto e forse magari siccome non abbiamo tante interazioni su Facebook non esce come primo forse senza provocazione un boomer su 100 proverebbe a parlare in modo civile secondo me uno su 100 è molto generoso però certo io sinceramente a volte penso che la miglior cosa per sconfiggere queste persone non aspettare che muoiono così da poter dare spazio e voce a nuove... cos'è? Mario a nuove generazioni che sono di gran lungo più intelligenti di questi vecchietti ringrenziti e ammuffiti che sperano ancora di tornare all'Italia di una volta io non la penso per niente così io penso che ci sia una tristezza malefica nel dire qualcosa come aspettiamo che muoiono non che stai augurando la morte a qualcuno o che il re abbi che la morte sia una soluzione perché lo è ovviamente lo è però minchia se fossi un nonnino a vedere che è la mia strana nipotina con i capelli blu e che si dice bisessuale non ne parli con me solamente perché pensa e anche un po' sa che io sia un idiota mi farebbe morire molto triste se è veramente una merda io che non posso... è stato questo anche uno dei motivi per cui mi sono un po' ingoiato il mio stesso cazzo nel culo che mi sono messo da solo e sono tornato a parlare con i miei che non capisco nel mio mondo non possono capirlo però penso che uno dei grandi ostacoli per loro sia il fatto che io non gliene parlo e io sono il primo punto di vista più utile per loro per parlarne quindi se non io chi è un po' la domanda che mi sono fatto se non noi che ci definiamo gli intelligenti e quelli che vengono dopo effettivamente lo sono più intelligenza io parlo di secondo me risorse sono più... hanno più risorse le persone dopo se non loro chi dovrebbe dare risorse a questi vecchietti per capire un cazzo possono farlo solo loro più che altro se non lo fanno si crea un ciclo infinito di... noi saremo i nuovi boomer i nostri figli saranno i nuovi boomer un giorno e quella cosa la fa cagare io la sto molto vivendo ho persone della mia età che iniziano a odiare tutto ciò che è nuovo solamente perché è nuovo ed è difficile approcciarsi mi dà fastidi molta gente non ha votato e forse più persone avrebbero votato forse non ci sarebbe stata la Meloni però vabbè unlucky ho visto anche i... ho visto anche i... l'età delle persone che hanno votato molti vecchietti io voglio ammazzare tutti a due giorni ti capisco ma va bene così chi bussa Marcolino? no sono io che faccio così penso che terrebbe gli stessi commenti a parti inverse sotto una pagina con la barri cervello come cazzo si chiama? ma infatti internet capito? dovrebbe essere vita vera Marcone Trollore è cafone ti danno tutti del ciccione e del coglione ma per me rimani un amicone il tuo buon umore mi fa battere il cuore mi susciti amore e il tuo canale dovrebbe essere prescritto dal dottore ma che bello ti passa un po' di tempo da Marco Merrino molti giovani secondo me hanno votato Meloni dei miei amici abbastanza sì purtroppo abbiamo pagato tanto anche il non voto dei fuorisede già ormai sei tra i fan più attivi della Meloni che è riconoscenza sono io Marco ti piace costruire trappole? non sono molto bravo dovrei trovarci cimentarmi un po' a me ha fatto un cazzo dei vecchi dei giovani trasgressivi vegan, feministe, lgbtq mi passa davvero tutto per il cazzo non so che dire perché sono stata bannata ma da cosa? breve che amici hai? eh abbastanza ma anche abbastanza disparati in Italia quindi ognuno ha la sua ho due tre amici anche no pax non sapevo come cazzo parlare con loro a quale dose sei? no guardi non la faccio ma credi che io la faccia perché me l'hai fatto un cazzo della salute degli altri? no me la faccio perché voglio andare al ristorante e non rompere i coglioni a nessuno in modo che nessuno rompe i coglioni a me ma secondo te ci credo che c'è il liquido? non ho fatto neanche mai una ricerca può esserci coca cola ma se la regola è la coca cola serve per andare ai ristoranti io me la faccio iniettare nelle labbra porco il signore iddio fatti quel cazzo di vaccino io non me la faccio c'è gente che mi diceva aspetto che magari aveva un'attività aspetto che diventa obbligatorio andare a lavorare col vaccino prima di quel momento non me lo faccio allora è un giochino allora è una gara stai gareggiando con qualcuno ma cosa cazzo è? c'è una coppa posso partecipare? non lo so odio solo una cosa quando qualcuno ciao breakdog odio solo una cosa quando qualcuno apre la bocca su argomenti di cui non ha nessuna competenza come quando fu dei vaccini la meloni si permette di dire che le reazioni omosessuali possono creare devianze ma se la scienza ha detto che non vi è alcuna correlazione perché lei si permette di dire una cosa del genere te lo dico io la religione ha certe persone a bruciare il cervello come lei devianze mamma mia io quei giorni ero arrabbiatissimo io non voglio che mi facciano arrabbiare queste cose perché sono sempre stata attorno a me adesso sono solamente un po' più vistose perché c'è internet non devo capire in quella trappola ragazzi perché io inizio realmente a non godermi le giornate perché apro internet e vedo che un politico ha detto una merdata la cosa che mi è rimasta più impressa di tutto questo rally politico è stato quando una supporter in tv se non sbaglio era canale 5 della meloni disse no ma il diritto della portola non è mai stato veramente un diritto della donna mi vergognerei di avere una figa se ne avessi una a dover condividere lo stesso sesso con una persona così veramente veramente ci penso ogni giorno a quella tizia là Marco vattene all'Italia vattene all'Italia vattene all'Italia vattene all'Italia ma certo io quello che voglio dire è che c'è un fondo di verità in quello che mi dicono le persone anche quando mi dicevano che coglione che sei scappi dai problemi te ne cambi casa da una parte coglioni non sapete veramente la verità quindi me ne vado per altri motivi drogs dov grazie dell'abbonamento però da una parte è vero che sicuramente devo implementare in me stesso una subroutine che non mi faccia stare male ogni volta che sento di merda perché la merda è sempre esistita adesso però mi tocca un po' di più perché boh sono diventato più vecchio sono più sensibile mi metto a piangere più facilmente I don't know però sta di fatto che è così non posso permetterla sta cosa qua non dobbiamo permetterla che ci prenda così tanto tanto da abbenarci a me sta succedendo un po' questo non so chi di voi la vive così granelloide prima volta con me come anche drogsdov ciao belli vi presentate in chat che siamo tutti a france qua tutti quelli che attaccano le donne che non apprezzano meloni perché la prima premia di sesso femminile dovremmo essere tutto ricogliose di lei sta roba certo come tutti i neri contenti per Obama perché era nero se cosa mi fa arrabbiare è il fatto che la mia rabbia è anestetizzata dal fatto che è così lo sanno tutti e non ci possiamo fare niente peto 1010 grazie all'abbonamento come stai bro ragazzi siete il passimo in discorso politico let's go back to japan non volevo cioè non voglio mettere nessun disagio però sta succedendo è successo secondo me è importante anche parlarne poco io non è che so tanto di politica so moltissimo però della gente che ne parla perché a me mi circonda molta più gente che ne parla a Bambera più di gente che ne sa e questa gente qua rappresenta un grande gruppo nella mia vita quindi come disse un comico tempo fa non ho idee sulla politica o idee sulla persone che ne parlano è veramente un po' il mio stato ora come ora ed è tutto un caos la mossa Zeb andare a Malta quello che vi voglio dire è che certo però è parte del lavoro perché se poi non è che negli altri posti non sa come va politicamente ci sarà sempre un posto ci sarà un buco di culo in ogni posto quindi bisogna prima installare il programma anti bucate di culo in modo che poi vivere bene ovunque in modo che poi diventa una preferenza dove stare e là te ne vai parlarne è importantissimo infatti già fasci stupidi nel senso negativo è scorie ma è poi interessante mi pare pare se siamo in una situazione del cazzo adesso già grazie a tutti